Ciao, sono Lauretta Buffa di Visionaire.fm. Andiamo insieme a scoprire quali sono stati i 10 film più visti al cinema nel weekend appena passato. E cominciamo subito dalla decima e ultima posizione con La mia ombra è tua. Salendo al nono posto troviamo Nostalgia Film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino. Ottava posizione per il film d'animazione La città incantata, in discesa. Ma in salita subito una nuova entrata, settimo posto per Una boccata d'aria con Aldo Baglio. Sesta posizione per Blackphone con Titan Hawk. Quinto posto per Lightyear, la vera storia di Buzz, una nuova avventura animata. Quarta posizione stabile per Jurassic World, il dominio. Salendo poi sul podio, terzo posto per Top Gun, Maverick con Tom Cruise. Seconda posizione per l'ex numero uno Elvis. E al primo posto questa settimana troviamo Thor Love & Thunder.